buongiorno a tutti e benvenuti sono andrea bellavita qua con me c'è il professor antonio orecchia l'argomento di cui vogliamo parlare oggi è il period drama capiremo subito di cosa si tratta e soprattutto vorremmo provare a ragionare su come una storia cioè un racconto un racconto audiovisivo può aiutarci a conoscere e a comprendere meglio la storia quella con la s maiuscola lascio subito la parola al professor orecchia buongiorno a tutti si è l'introduzione perfetta perché se voi ci pensate ci sono molti modi per studiare per conoscere per capire e poi anche per scrivere la storia e quindi farne magari in futuro uno strumento per intraprendere appunto in futuro un lavoro creativo e intellettuale certo tutti noi siamo abituati uscendo dalle scuole al manualone di storia a quei mega riassuntoni oppure in modo più specifico come si faceva una volta i saggi scritti dagli esperti su piccoli argomenti piccoli o grandi argomenti specifici che sono insomma il punto di partenza per uno studente ma poi però per scriverla per raccontarla la storia ha subito varie vari passaggi una volta come voi sapete sicuramente la scuola si ragionava in pratica solo sugli archivi sugli archivi cartacei sulle raccolte dei documenti che venivano prodotti dagli uomini e dalle istituzioni però ecco adesso nel ventunesimo secolo non è più così perché perché come diceva un grande storico cioè michelle bovel ogni epoca si dà le fonti che rispondono ai propri bisogni e quindi adesso lo storico è diventato datemela buona si usa questa definizione una sorta di orco che prende tutto quello che può aiutarlo tutto quello che può essere una fonte per aiutarlo a comprendere a capire meglio la conoscenza del passato ed ecco allora che l'argomento di cui parliamo oggi è proprio centrale perché ormai è arrivato studiando il novecento sono arrivate altre fonti le fonti audiovisive e in particolare il periodo drama appunto che tra l'altro se ci pensate è una fonte che può anche essere definita una fonte sincrona perché il periodo drama in pratica ci mostra ci racconta anche quello che succede praticamente in diretta in contemporanea per così dire c'era all'inizio del secolo arrivò prima al cinema e poi però dalla seconda metà del novecento arriva anche la televisione quindi l'audiovisivo l'audiovisivo e la storica perché perché l'audiovisivo e la storia o meglio anche la storiografia se vogliamo se vogliamo affondano le proprie radici nella osservazione della realtà nella registrazione dei fatti e nella loro riproduzione e nella loro divulgazione quindi l'audiovisivo e la storia in realtà nascono dalla stessa radice e allora eccoci qua oggi parliamo del periodo drama e devo subito lasciare la parola al collega amico andrea bellavita che ci spiega che cos'è il periodo drama appunto allora molto semplicemente per periodo drama cioè drama racconto riferito a un periodo e intendiamo all'interno delle produzioni televisive un prodotto di fiction seriale cioè una fiction a puntate che prevede la ricostruzione di un periodo storico e quello che una volta veniva molto semplicemente chiamata una fiction in costume e sono necessarie però a questo punto alcune premesse prima di tutto non è più potremmo dire assolutamente necessario che il periodo storico che viene raccontato e rappresentato sia collocato molto indietro nel tempo quindi una storia antica quello è il periodo drama più classico certamente quello a cui siamo più abituati ci sono esempi famosissimi e pensiamo una cosa come donton happy che tutti abbiamo visto di cui abbiamo sentito parlare si colloca copre il regno di re giorgio quinto quindi va tra gli anni dieci e venti del novecento the crown altra serie britannica famosissima parte dal regno elisabetta seconda quindi nel 1947 arriva fino al governo toucher degli anni ottanta deadwood è una serie ambientata nel vecchio west la conquista del west parte proprio dopo la battaglia di little be horn quindi siamo nell'ottocento sessanta sette ma pensiamo anche a un caso esemplare come quella di romulus la nostra fiction di sky recentissima che addirittura racconta il periodo prima della fondazione di roma quindi l'ottavo secolo avanti cristo in realtà quello che è accaduto negli ultimi anni particolare negli ultimi dieci anni è che c'è un aumento di titoli che invece si concentrano sul nostro passato prossimo per fare ancora degli esempi molto famoso madman parla degli anni sessanta vinyl deduce mind hunter parla degli anni settanta e ci sono moltissimi titoli che mettono in scena il periodo della guerra fredda da the americans che forse è il più famoso ma poi ne abbiamo avuti moltissimi negli ultimi due anni chernobyl e deutschland eighty three eighty six eighty nine quindi tutto il periodo degli anni ottanta e for all mankind in cui si ipotizza che i russi e non gli americani siano arrivati per primo sulla luna da questo punto di vista forse ancora una volta l'esempio più evidente proprio per tornare alla televisione italiana 1992 1993 1994 che parlano di tangentopoli quindi parlano di un passato molto molto prossimo ma che è già storia da un certo punto di vista ormai non è neanche però così necessario che gli eventi che vengono raccontati siano quelli tipici dei libri di storia tornando ai nostri esempi vinyl di fatto racconta la scena rock punk di new york negli anni settanta deduce e ripercorre tutto il periodo della legalizzazione dell'industria pornografica e il fenomeno della ids a new york sempre tra gli anni 70 80 mind hunter di nuovo lo vedremo magari più approfonditamente fra qualche minuto si colloca cioè si concentra su un piccolo evento e questo perché è dell'altra premessa assolutamente fondamentale non dimentichiamo mai che il periodo drama ha alla base l'intrattenimento cioè l'obiettivo di questo tipo di prodotti è quello di costruire delle storie affascinanti e coinvolgenti per il pubblico quindi anche riferendoci a quello che dicevi tu prima più che al saggio storico il periodo drama potrebbe essere paragonato per certi versi al romanzo storico di nuovo se pensate a una produzione letteraria recente come ad esempio quella negli stati uniti di don de lillo per fare un esempio lì si hanno la base è quella del romanzo storico ma è chiaro che l'obiettivo è quello di raccontare un sistema sociale quindi non dimentichiamo che il primo obiettivo del periodo drama è quello del racconto a cui si aggiunge un'ambientazione che è in grado di affascinare anche visivamente attraverso la ricostruzione il suo pubblico sì perché dimmi se sbaglio andrea ma l'idea è un po che l'audiovisivo abbia al suo interno appunto una dimensione che quella del narrare del collegare con una logica i frammenti della realtà e la storia da questo punto di vista è proprio un grande racconto che non può prescindere dalle singole narrazioni che vengono riprodotte e quindi l'uso delle fonti audiovisive per lo storico è molto interessante e anzi ormai è fondamentale perché perché questo genere di produzione come come hai come hai detto tu e bastano gli esempi che tu hai appena fatto questo genere di produzione riguardano in realtà tutti gli aspetti della storia cioè i mutamenti culturali i mutamenti politici i movimenti sociali e quindi l'audiovisivo documenta e affida al video la registrazione e anche la conservazione perché perché attraverso il periodrama si accresce la conoscenza del passato e quindi del presente però scusa visto quello che stavi dicendo andrea te devo farti una domanda cioè a tuo parere quali sono le diverse tipologie diciamo no del rapporto che vi è tra il periodrama e la storia o tra il periodrama e il fatto storico esattamente perché questo è il punto ci sono tipologie molto diverse e ribadiamo di nuovo che il periodrama è sicuramente una delle tendenze della fiction contemporanea non soltanto quella della televisione generalista lo è e lo vediamo molto bene con gli streaming player netflix prima di tutto ma anche prime video apple tv disney sono pieni di ricostruzione storica ma non dimentichiamo che il racconto della storia attraverso una fiction nasce proprio con l'inizio della storia televisione quindi con gli anni 50 l'italia ha una tradizione incredibile di fiction seriali che o ispirandosi ai romanzi famosi tele romanzi o con gli sceneggiati originali mettevano in scena la storia è molto diverso l'approccio quindi il rapporto tra racconto ed evento storico il primo rapporto il diciamo il più semplice è quello di tipo ricostruttivo cioè racconto audiovisivo come forma di ricostruzione di un periodo o di un evento storico con maggiore o attenzione a con maggiore o minore fedeltà iconografica enciclopedica viene costruito questo mondo si parla in maniera proprio precisa di un world building di costruzione di un mondo e vengono offerti agli spettatori dei dettagli dell'informazione proprio dei pezzi di conoscenza come dicevi tu chiaro che la fedeltà filologica può anche andare in subordine può essere messa in un angolo proprio in favore dello spettacolo c'è una grandissima differenza tra romulus e in cui addirittura gli attori recitano in proto latino e una serie come barbari serie di netflix del 2020 che racconta praticamente lo stesso periodo ma in cui sembra che immaginari siano molto più vicini a l'asterix di goschenüder so in cui le varie tribù sono quasi più pittoresche che storiche per arrivare fino a un caso eclatante come spartacus in cui di nuovo stiamo parlando di antica roma però lì gli attori sono truccati e vestiti come come nei film hollywoodiani degli anni 60 come in cleopatra ecco e questo il primo la prima tipologia di rapporto la seconda che è molto interessante è quella in cui la relazione che si stabilisce è una relazione di tipo nostalgico e proprio il termine nostalgia movie e nostalgia series il primo riferito al cinema secondo la serie televisive è proprio un termine tecnico l'utilizzo del concetto di nostalgia sta proprio a indicare una rappresentazione del passato fortemente idealizzata molto più positiva rispetto al presente e durante nel quale viene realizzata la serie ma anche molto più positiva rispetto alla realtà storica cioè l'idea è che si guardi al passato con tenerezza con affetto ma quello che interessa a noi e soprattutto si guarda al passato per trovare una forma di riscatto rispetto al presente e qua l'esempio che proprio per la nostra generazione ma penso che anche tutti tutti gli studenti non ne siano non siano usciti indenni in qualche modo l'avranno incrociato l'esempio forse più famoso di tutti i tempi è il vecchio happy days perché happy days è una serie famosissima sfortunatissima che è andata in onda per dieci anni tra la metà degli anni 70 la metà degli anni 80 ma in realtà raccontava gli anni 50 in modo assolutamente nostalgico e pittoresco era l'american dream era l'american way of life per cui c'era quella musica quei gruppi poi i vestiti i cardigan sportivi per i ragazzi le gonnellone ampie per le ragazze c'era lo sport è interessante perché anche la figura del ribelle senza causa del del piccolo selvaggio del piccolo criminale in quegli anni siamo in realtà degli anni 50 lo interpretavano sullo schermo james dean che era gioventù bruciata che i titoli proprio ribelle senza causa in originale c'era marlon brando che faceva il selvaggio quindi una rappresentazione di una tipologia maschile potenzialmente molto critica e invece lì viene trasformata nella figura assolutamente rassicurante di fonzi allora qual è allora l'interesse a studiare analizzare che quello che noi facciamo nel nostro corso di storytelling e fiction tv questa tipologia di prodotto proprio come come un documento storiografico perché interessante ragionare sulla nostalgia nel periodo drama perché in qualche modo ci fa capire qual è il contesto socioculturale nell'epoca in cui viene realizzato e perché e su questo voglio sentire naturalmente il tuo punto di vista una società voglia guardare o abbia bisogno di guardare dietro di sé con nostalgia perché in fondo significa che vuole spostare lo sguardo dal presente esatto ma questo guarda perfetto non potevi dirlo non si poteva dire meglio perché è da un lato questo genere no di produzioni sono testimonianze dirette certo che riflettono il mutamento dei tempi ma dall'altro dall'altro questo è proprio anche storiografia perché perché queste produzioni ti offrono una interpretazione di quel tempo no di quella storia e questa è proprio storiografia cioè conoscenza delle fonti dei fatti a cui dare un'interpretazione e quella serie da un'interpretazione sia sugli anni 50 ma anche soprattutto forse sul periodo in cui è stata prodotta perché epideis come come è noto facciamo caso di epideis che è bello e poi ci fa pensare a qualche anno fa ci fa ricordare anche a noi con nostalgia esatto alla metà degli anni 70 metà degli anni 80 esatto epideis andò in onda in america nel 1974 e in italia poi tre anni dopo nel 77 e perché interessante perché proprio alla metà degli anni 70 pensano che possa avere successo una serie impostata una generazione prima cioè negli anni 50 e questo significa a parte quello che hai detto tu aggiungono gli stati uniti negli anni 70 la metà degli anni 70 erano una nazione in crisi nettamente in crisi erano appena usciti o stavano uscendo dalla guerra del vietnam che aveva lacerato la società e soprattutto aveva spezzato le generazioni tutti i ragazzi conoscono la contestazione no dei giovani nei confronti della guerra del vietnam ci sono film a iosa no la società e inoltre le istituzioni degli stati uniti erano in grave difficoltà e non solo perché li ammazzavano tutti i leader nel 63 john kennedy nel 1968 il fratello di kennedy che stava per per candidarsi alle elezioni e probabilmente avrebbe vinto e cioè bob kennedy ma ancora sempre nel 68 martin luther king insomma in pratica c'era un problema enorme legato proprio anche all'assenza di leader che venivano ammazzati ma poi c'era il caso watergate cioè l'istituzione il presidente che era stato e stava per dimettersi ma era ormai tre anni sotto praticamente sotto processo perché come i ragazzi lo sanno tutti due giornalisti del washington post avevano scoperto un'attività di spionaggio nei confronti dei democratici cioè dei rivali politici aveva e si era scoperto insomma che il presidente degli stati uniti era implicato in questa vicenda aveva mentito aveva abusato del suo potere insomma nixon rischiava di rischiava l'impeachment questo significava che gli stati uniti erano appunto in grave difficoltà sia da un punto di vista sociale sia proprio la struttura delle istituzioni era in difficoltà e allora poteva ben funzionare un ritorno a vent'anni prima quando invece le cose andavano benissimo quando gli stati uniti apparivano appunto l'american way of life il paese delle grandi opportunità il paese della ricchezza il paese dei buoni sentimenti dove anche anche il teppista in realtà è buono poi alla fine una rappresentazione idealizzata che attenzione da un punto di vista storico era una rappresentazione che corrispondeva al pensiero di molti americani che dicevano quando una volta si stava meglio quindi la logica storica dell'interpretazione quindi per questo è storiografia e capire anche il perché in determinati momenti vengono prodotti delle serie televisive che fanno business che sono lavoro per la gente appunto che trova da lavorare in questo ambiente e però appunto si parte sempre dalla storia sei d'accordo con me? Assolutamente d'altronde chi studia narratologia non soltanto nella fiction e nell'audiovisivo ma anche nella letteratura sa che ogni racconto si dice è una messa in forma del mondo cioè ogni racconto non è mai neutro non è mai innocuo c'è un'interpretazione assolutamente c'è un'interpretazione di tipo ideologico tant'è che le cose nel tempo sono cambiate rimaniamo sempre su questa linea degli anni 70 la grande tendenza contemporanea se i nostri futuri studenti o studenti sono appassionati di fiction seriale se ne saranno accorto è quello invece di un modello del period drama che è proprio della post nostalgia o addirittura dell'anti nostalgia in realtà è un racconto della crisi cioè raccontare in modo molto critico e molto problematico il passato perché la funzione è quello di far emergere le radici le motivazioni profonde di quello che non funziona nel presente quindi è un ribaltamento e raccontare il passato prossimo per vedere qual è l'origine del problema del presente rimaniamo sugli anni 70 passiamo a mind hunter mind hunter vedo che dietro di te hai la locandina del convegno la grande storia il piccolo schermo che diventerà presto un libro giusto è giusto è giusto è giusto accennarne esatto proprio proprio in quell'occasione mi ero occupato di mind hunter serie recentissima straordinaria 2017 2019 con alcuni con alcuni episodi diretti da fincher quindi un grande regista hollywoodiano cosa fa racconta di nuovo un fatto molto piccolo che non trova grande spazio sui libri di storia che è la nascita del primo nucleo di analisi comportamentale dell'fbi e proprio a partire dal 77 e tu ci direi perché il 77 un anno così importante c'è questo gruppo di persone che incomincia a studiare il fenomeno dei serial killer c'è una base storica il personaggio che ispira il protagonista il famoso john e douglas che è quello che poi anche ispirato tutti i personaggi dei libri di thomas harris quindi mind hunter in senso gli innocenti randrego ma anche di criminal minds scusa se ti interrompo praticamente mind hunter sono i genitori di criminal minds il john e douglas è quello che si inventa anche questo è molto affascinante quello che negli anni 70 si inventa un modo di seguire e studiare i serial killer che poi è quello che noi a partire dagli anni 90 2000 abbiamo visto sempre applicato è la fiction il paradosso è che noi sappiamo come funziona il modo di indagare sui serial killer non perché abbiamo letto il libro di john douglas non perché abbiamo studiato acquantico ma perché abbiamo visto film e serie in cui i poliziotti agivano a partire dal suo dalle sue dei suoi studi ma in dante fa un passo indietro è come se lo spettatore molto curioso lo spettatore sa come agiscono i mind hunter mentre invece i personaggi sullo schermo stanno imparando e vede come è nato questo tipo di processi i serial killer di cui si parlano sono quelli che hanno infiammato e terrorizzato quegli anni c'è il figlio di sam e la serie incomincia proprio nel 77 quando il caso del figlio di sam e sui giornali edmund camper jerry brudos meno famosi se non per gli appassionati ma si arriva fino a charles manson quindi un'altra icona dell'immaginario collettivo ma questo vedi torna sempre alla storia perché il docudrama appunto questo genere di serie si ispirano comunque a un fatto storico e quindi contemporaneamente rappresentano anche sia rappresentano un documento che mostra come però in questi anni si interpretano gli anni gli anni passati hai fatto un lapsus meraviglioso perché hai parlato di docudrama docudrama è esattamente un altro dei nostri grandi oggetti di interesse docudrama ad esempio è stato sampa al quale abbiamo dedicato proprio in queste settimane un grande approfondimento interdisciplinare aperto agli studenti in cui la dimensione del drama, del racconto dialoga molto più strettamente con il doc, cioè con i documenti, le fonti documentari invece nel nostro period drama abbiamo grande grande racconto, cioè abbiamo proprio narrazione d'altronde l'interesse a studiare questi prodotti che lei ribadito tu benissimo sono prodotti di industria culturale, cioè hanno l'obiettivo di fare business in maniera molto... Scusa se ti interrogo, fammi dire, questo è proprio lo scopo del nostro corso di laurea cioè costruire delle figure intellettuali in grado poi di magari andare a lavorare in questo ambiente quindi è in questo che ci impegniamo, no? Assolutamente, non va dimenticato per quello che lo ribadiamo dall'inizio l'obiettivo fondamentale di questi prodotti è quello di avere pubblico che si traduca in abbonamenti, che si traduca in pubblicità, che si traduca in social networking che si traduca in comprare poi il merchandising, ma l'obiettivo è di tipo economico però contemporaneamente l'idea è che per coinvolgere il pubblico bisogna dare degli oggetti in grado di entrargli davvero in profondità quindi di avere un intrattenimento che lo tocchi dal punto di vista anche sociale e culturale quindi studiare questi prodotti ci consentono di capire quali sono le grandi ferite a livello sociale e storico di un paese di tutto di un sistema, di vedere tra l'altro come nel presente si cerchi di esorcizzare il passato attraverso il racconto facciamo altri esempi, un altro di questi appuntamenti sarà dedicato a Chernobyl e alla Guerra Fredda su cui ci sono molti titoli, ma pensiamo soltanto alla rappresentazione della diversità la messa in scena del razzismo e dell'identità black anche in termini di periodrama, soltanto negli ultimi mesi sono usciti due serie straordinarie che raccontano la discriminazione raziale negli Stati Uniti negli anni 40 una la quarta stagione di Fargo in chiave ironico grottesca Lovecraft Country in chiave horror ma in realtà ci vogliono parlare della discriminazione raziale oggi The Good Lord Bird, la storia di John Brown con Ethan Hawke dà un'idea di Ethan Hawke come il nostro 1992 dà un'idea di Stefano Accorsi racconta gli anni immediatamente precedenti alla guerra di secessione quindi siamo in piena storia antica ma di nuovo ci vuole far riflettere sui problemi del presente Sì, proprio perché, proprio come sostieni tu perché l'audiovisivo ha questa sua straordinaria capacità di divulgazione di divulgare e quindi una grande capacità di costruzione di un immaginario collettivo che si può poi trasformare proprio nella memoria collettiva di un popolo nel patrimonio culturale condiviso da una nazione quindi le cose sono molto serie e infatti bisogna studiarle perché se ci pensi, scusa che concludo perché proprio sono le immagini che riescono a trasformare e a costruire i miti, i simboli che poi contraddistinguono il patrimonio memoriale collettivo della nazione e quindi da questo punto di vista io credo che le immagini quindi l'audiovisivo sia sia da un lato pensate è bello studiarlo da storico sia da un lato una fonte come fosse un documento ma contemporaneamente l'audiovisivo con la sua capacità di costruire è anche proprio una, chiamiamolo come un agente di storia cioè contemporaneamente fa la storia e quindi è proprio quello che stavi sostenendo tu no? volevi dire qualcosa? Assolutamente noi siamo in un'epoca di discorso diffuso il discorso dei social, il discorso labile le grandi narrazioni letterarie, cinematografiche e anche seriali sono invece racconti densi sono racconti che hanno una profondità in qualche modo potremmo dire che questo tipo di narrazioni circolano e funzionano perché sono indiziari del nostro tempo cioè sono una specie di depositato della cultura e della società che gli sta intorno insomma questo è proprio quello che noi cerchiamo di fare all'interno del nostro corso cioè far dialogare la storia e le storie i fatti storici, gli approcci storiografici ma anche la forza dei racconti io direi che ci ritroveremo ancora in questa modalità digital a riflettere su questi argomenti e naturalmente spero che ci rivedremo invece molto presto in aula ringrazio ancora il professor Orecchia grazie a tutti e ci vediamo presto alle prossime puntate si può dire a presto arrivederci a presto a presto a presto a presto